Salva Manolas, riesce a trovare un corridoio libero per Pellegrini, si è inserito Florenzi, Florenzi Donnarumma, lo ipnotizza e tiene a galla il Milan. Qui in ritardo Bonucci, non si avvede Romagnoli dell'arrivo di Florenzi che secondo me ha cercato il tocco sotto, rimasto in piedi fino all'ultimo Donnarumma, salva la porta del Milan. La più clamorosa palla a gol capitata alla Roma.